Ciao! Ciao! Come ti chiami? Vito. Ciao, piacere, sono Simone, benvenuto in BFU, sono il tuo video. Ah, ok. Che ci fai qua? Raccontaci, raccontaci. Mi hanno regalato questo buono per la laurea, quindi... E qui chi te l'ha regalato? E com'è? E qui? No, sono da solo. E va bene, facciamo senza. Sì, sì. Quindi sarai tu il nostro videomaker? Yes! Ma sei carico? Abbastanza, dai, abbastanza. Di solito sono abituato a guidarvi dai aeri. Questa è la prima volta che mi ci butto. Allora, vedrai che è meglio. Ah, il briefing l'hai fatto, te lo ricordi? Sì. La cosa più importante? Proprio meno. È quella di mettermi in posizione banana, così fa detto il pilota. Anche, ma di ridere tanto e non guardare giù, perché sennò non si vede niente. Va bene. Si vede solo la testa. Dai, ci vediamo dopo l'aereo. Va bene. Ciao. Ciao. Ma sì, prendi l'aereo, prendi l'aereo, prendi l'aereo, prendi l'aereo. Ehi, gioia! Ok, mettiti a cavalli soli, vieni in posizione qui dietro che vuoi. Tantanto benvenuto a bordo. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lo fate, non lo fate, non lo fate, non lo fate, lo faccio solo io, lo faccio. Ah, ecco, va bene. No, fantastico, ragazzi, fantastico. Bene, eh? Grazie. Grazie. Grazie a tutti.